Cari amiche e cari amici, voglio fare alcune riflessioni con voi sulla gratitudine e sulla ingratitudine e chiedervi, secondo voi è più facile essere grati o ingrati nei confronti di qualcuno che vi ha aiutato, che vi ha fatto del bene? Adesso partiamo dal presupposto che non importa il motivo dal quale dovrebbe scaturire questa gratitudine, in altre parole non importa se qualcuno ti ha donato dei soldi ad esempio quando non avevi bisogno oppure se questo qualcuno ad esempio riconoscendoti un talento come non so attore o cantante quando nessuno ti conosceva e ti ha aiutato a farti conoscere e quindi a far conoscere il tuo nome perché mille e altri mille possono essere i motivi che portano alla gratitudine o all'ingratitudine. Quel che è certo è che dietro l'ingratitudine si nascondono ricatti, gelosie, prevaricazioni, sofferenze ma anche a volte delle strane forme di piacere dovute a rivincite che spesso portano anche a ritorzioni. Ma di una cosa sono certo che nell'ingratitudine il grande protagonista è l'ego, è l'essere pieni di sé. Non a caso Cartesio definì l'ingratitudine come una mescolanza di egoismo, orgoglio e stupidità. credo che mai definizione fu più appropriata. Quello che mi ha sempre colpito nella ingratitudine è come ci si dimentica facilmente di quello che è stato, ci si dimentica facilmente anche di un rapporto che può essere stato bello, ci si dimentica molto facilmente anche della riconoscenza fino al punto di negarla del tutto. Per arrivare anche al punto di denigrare con estrema facilità colui che disinteressatamente ti ha fatto del bene. Seneca, una grande ammirazione per Seneca. Seneca sosteneva che la riconoscenza è l'unico modo con cui ricambiare un beneficio. Sosteneva anche che ringraziare, e parlava proprio della parola grazie, la gran parte delle volte è qualcosa di transitorio, proprio perché si pronuncia, a volte anche con disattenzione, e finisce lì. Non basta. Perché non basta? Perché secondo Seneca la riconoscenza dimora nella memoria e questa memoria va ravvivata, va rivissuta, riportata alla coscienza e quindi alimentata, altrimenti il beneficio ricevuto cade nell'oblio, nella dimenticanza. E sì, alla fine è dimenticato completamente. Quindi il tempo può cancellare i ricordi, ma Seneca dice che questo è imperdonabile al punto che scrive, ve lo leggo, il più ingrato di tutti è chi dimentica. Fantastico. Ecco, il ricordo del passato per Seneca è fondamentale, perché Seneca vede in questo ricordo per il passato un segno di rispetto verso il prossimo, verso colui che ti ha teso una mano, senza chiedere nulla in cambio. E quindi dimenticarsi di questo significa non pensare neanche a, lontanamente, è una possibile forma di riconoscenza. E per questo Seneca scriveva a Lucilio, leggo sempre le sue parole, è ingrato chi nega il beneficio ricevuto, ingrato chi lo dissimula, più ingrato di tutti chi lo dimentica. A volte basta una piccola mancanza da parte del benefattore per far dimenticare ha beneficiato tutto il bene ricevuto. Ecco, allora si arriva perfino a considerare chi ci ha fatto del bene come un nemico. Ecco, adesso Seneca scrive una fase che veramente lo conferma non solo come filosofo e grande pensatore quale è stato, ma anche come psicologo, come conoscitore della natura umana. Anche in questo caso ve la leggo. Consideriamo certe persone come i nostri peggiori nemici, non solo dopo aver ricevuto dei benefici, ma per il fatto stesso di averli ricevuti. Succede in alcuni per via della loro natura malvaggia, ma per la maggioranza delle persone accade perché il tempo intercorso annulla il ricordo. Questo accade in quanto siamo sempre presi da nuovi desideri, sempre attenti a ciò che ci manca, di conseguenza quello che abbiamo ci sembra privo di valore. Ecco, cari amiche e cari amici, in altre parole, Seneca ci dice che noi prestiamo attenzione agli altri finché ci fanno comodo, finché non otteniamo quello che desideriamo. Ma poi non è che ci facciamo molti scrupoli a sbarazzarci, anche di chi ci ha aiutato. Perché? Perché nuovi desideri prendono il sopravvento nella nostra anima. E tant'è vero che Seneca dice che sono pochissime le persone che ritornano con la mente al passato. E quindi Seneca vede l'ingratitudine come un vizio odioso. Ne parla come un crimine. Certo, non è un crimine giuridico, ma è un crimine morale. E quindi, come tutti sappiamo, Seneca è un autore straordinariamente attuale. Ecco, proviamo un attimo a pensare. Quante persone in passato ci hanno fatto un favore, ci hanno aiutato, ci hanno fatto un bene, piccolo o grande che sia. Ecco, siamo ancora in buoni rapporti con queste persone e riusciamo a riconoscere quello che hanno fatto per noi. Quanto spesso alimentiamo questa gratitudine nel ricordo? Oppure è bastato qualche episodio per farci cancellare tutto e renderci ingrati. Comunque, esistono uomini saggi, ancora oggi, ma nella maggior parte dei casi, gli uomini sono egoisti, perché sono pieni di sé. E ovviamente quando sei pieno di te stesso, non c'è più spazio per gli altri. C'è un proverbio che è terribile, ma è veritiero e recita così «Insegna a nuotare a un ingrato e quello poi ti annegherà». Comunque, voglio concludere con Seneca, che scriveva «E' ingrato chi nega il beneficio ricevuto, ingrato chi lo dissimula, più ingrato chi non lo restituisce, il più ingrato di tutti è chi lo dimentica». Lo ripeto perché è veramente fantastico. «E' ingrato chi nega il beneficio ricevuto, ingrato chi lo dissimula, più ingrato chi non lo restituisce, ma più ingrato di tutti è chi lo dimentica». Lucio a Neoseneca. Bene, cari amici e cari amici, in descrizione e nel primo posto in alto lascio il link per iscrivervi al decimo Toro Interviste. Ci saranno molte interviste prossimamente, molte sorprese, che appunto, essendo sorprese, le rilevererò all'ultimo momento. Una buona giornata a tutti e un caro braccio. Marco Cosmo